Saranno 20 i ricercatori dei settori green e innovazione che verranno assunti dall'Università d'Annunzio grazie a due finanziamenti ministeriali di 2 milioni di euro. 1 milione e 500 mila euro sono per i dottorati con i contratti di ricerca sull'innovazione. I restanti 800 copriranno i contratti di ricerca su tematiche green. Si tratta di fondi destinati a contrastare gli effetti della crisi conseguenza della pandemia. Fondi con i quali il ministero ha deciso di sostenere misure a favore della ricerca scientifica attraverso contratti di ricerca a tempo determinato. La d'Annunzio dunque è sempre più green. Lo dicono anche i risultati della UE Green Metric World University Rankings, la prima graduatoria mondiale che valuta l'impegno degli Atenei che contribuiscono allo sviluppo di un'università sostenibile. Nella graduatoria mondiale degli Atenei Green, la d'Annunzio è balzata al 126esimo posto su 956 Atenei di 80 paesi diversi. Una capacità di essere un Ateneo Green che la d'Annunzio ha portato anche all'Expo di Dubai dove ha presentato il progetto per eliminare la presenza di plastica nei mari. E a proposito di sostenibilità, il tema del risparmio energetico è cruciale per il rettore Sergio Caputi che ha avviato la ristrutturazione degli edifici universitari della d'Annunzio per renderli più sostenibili sotto il profilo energetico. A 3 milioni infatti ammontavano prima degli aumenti i costi dell'energia elettrica e gas annualmente. Ora, dopo il caro energia, è prevedibile che la spesa salirà a 4 milioni di euro. Si pone dunque l'esigenza di un risparmio.